No! No! Omae wa mou shindeiru. NANI? No! Perché? 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 Rosalinda, ma cosa mi fai? Ciao bambini! Questo è Peo Testa Volante! Questo è Electric Brrrr! Volante! Peo Volante che oggi vi farà divertire molto fluttuando in questo gioco. E ho pensato, beh, non sarebbe divertente condire un po' di più. Un gameplay non così intelligente con un'idea tutt'altro che intelligente. Quindi facciamo stupido più stupido. Oggi bambini, su Mario Tennis Aces, in cui adesso toglierò la musica disattivata, pensate, faremo un torneo online e vedremo quante sculacciate Zio Peo prenderà. Zio Peo Testa Volante. Tra l'altro, ricordando che, accetto, in questo ufficio l'internet è pessimo, infatti non vedo l'ora di trasferirmi, perché sì, ho preso Casa Nuova, pensate, dove farò il mio studio in una manzarda bellissima e vi renderò partecipi, ma questa è un'altra storia. Quindi qui sono connesso con il telefono, via Hotspot. Non è fantastico, bambini! Non ve l'aspettavate, ma innanzitutto, chi prendiamo? Rosalinda. Sì, Rosalinda numero uno. Andiamo con Rosalinda, signori. Vuoi cercare un avversario? Sì, subito, signori. Subito, cerchiamo un avversario on the line, come dite voi giovani, per far vedere quanto siamo diventati più bravi. Non che mi sia allenato tantissimo, in realtà. Ci ho giocato soltanto sul treno per andare a Milano, e un po' con Andre l'altra sera, e basta. Si è verificato un errore di comunicazione! Mi ricordo di essere riuscito a giocare un altro errore. Sono riuscito a giocare in questo modo, collegandomi con il telefono, anche a Splatoon e a Arms, da questo ufficio. Quindi spero di riuscirci anche questa volta. Tipo di Nat F. Ma è pessimo! Bene, a quanto pare il problema era Iliad, quindi adesso dovrebbe funzionare. Mi hanno prestato un telefono con Tim dentro. Si vede che fluttuano questi? Fluttuano? Si è verificato un errore, fantastico. Non è fantastico ancora. Bene, possiamo iniziare a giocare. Sì! Sì! Cinque, quattro, e tre, e due, e una! Quanto tempo mi hai fatto aspettare per fare una partita? Teo, testa volante, non ha tutta questa pazienza, sia chiaro. Ok, siamo pronti, eh? Iniziamo subito con il tiro a giro, attenzione. Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Già subito, così? Iniziamo il torneo da grande, proprio, con i lisci. Beccala! Ma perché? Perché? Perché mi sa che schiaccio per sbaglio il pulsantino qui sopra, non lo doi. Oh! Wow! Madonna, che tiro! Ma io non sapevo che Rosalinda potesse fare queste cose incredibili. Pronto? Freghiamola! Oh! Pum! Smorzata, corta! Prendila! No, va fuori! Giocare con questa tutta verde rende le mie mani estremamente scivolose. Non è fantastico? Alta! Dirà! Corta! Alta! Questa palla curva! Salvala! Mamma mia, questo è bravino! Wow! La va a salvare un'altra volta! Beccala! Madonna quant'è brava questa! Anche la mossa finale! Questa non riesco a bloccarlo, ho troppo poco potere! No! Però testa volante, adesso lo abbia al culo! Infatti sì! Maledizione! Iniziamo benissimo, un torneo che andiamo a perdere alla grande, alla prima partita, signori! Pronti! Madonna! Ma perché? C'ho così poco potere! Per bloccare le cose! Pronta, Rosalinda? Vai a prenderla! Scema! T'ho detto di sto ceppo! Adesso ti... Adesso vedi! Vieni qua, no? Zia! Vieni da zio Peo! Zio Peo! Zio Peo! Zio Peo te la mette lì! Hai capito? Zio Peo! La testa di Peo! Cioè, qui c'è soltanto la testa! Il corpo l'ho lasciato a casa! Pensate! L'ho lasciato a casa! Attenzione, il lag! Corta! Palla! Wow! Cosa? Quella manco l'hai vista! Hai capito? Mamma mia, brutalissima! Rosalinda, attenzione! Dove vai? Ah, ho toccato la levetta per sbaglio, ma te prendesse! Devo comprare un Pro Controller, signori! Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Devo comprare per forza un Pro Controller, perché qui fanno i macelli, i tasti! Dai! Peo testa volante! Dove vai? Peo testa volante! Dove vai? Vai! Ma che palla adesso c'è? Povini qua! Buttagliela su! Corta! Alta! Di là! Di là! Di là! Di là! Di qua! Corta! Di là! Ah, questa te la paro però, c'ho il potere carico! La bestia! Vediamo un po' se ce la fa! Bloccato! E la in... La in... No! 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 Omae wa mou shindeiru! NANI! No! Perché? 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 Rosalinda! Ma cosa mi fai? Era una partita di riscaldamento, ok? Ok, peo testa volante, non era caldo! Ah, ma si prendono dei puntarelli, attenzione! Ok, stavolta provo con Peach! Mi trovo molto meglio con Peach! E il mio main, Peach, ho deciso adesso! Che il mio main è Peach! Perché Rosalinda mi piace molto! Però, non uso molto il tiro curvo, devo dire, contro Zio Mario! Hai capito? Hai capito? Zio Mario vuole combattere! No, Zio Mario lo prendiamo a sculacciate, che a lui piace! Ah no, abbandonato il tizio! Boh, va bene! Vai con Zio Mario, dai! Dai Zio Mario! Asurman si chiama lui! Io mi chiamo Peo! Peo testa volante da domani! Devo fare il profilo Peo testa volante! Volete che faccia il profilo Peo testa volante soltanto per giocare con voi a Mario Tennis? A proposito, se mi ricordo metterò qui il mio codice amico del mio utente che utilizzo per giocare con voi! Possiamo trovare un giocatore da sculacciare, per favore? Bene, contro Boo! Boo fa un sacco di palle di quelle che girano, quindi iniziamo a farle anche noi! Oh, attenzione! I primi 15 punti! Zia Peach se li porta a casa! Wow wow wow! Vediamo un po' se questo pure me lo porto a casa! Pam! Pam! Sì, questo me lo porto a casa! Signor Boo, ma cosa fai? Signor Boo! Becca questa pure! Pam! Pam! No, no, no Peach! Non si fa così Peach! Non ti puoi far fregare come una scema! Ecco, così si fa! Di cattiveria! Brava zia Peach! Peo testa volante è fiero di te! Vai! Pum! Pum! Lo va a fregare! No! Invece sì! Invece sì! Alta! Prendi la zio! Valla a prendere! A casa la prendi! Hai capito? Peo testa volante imbattito! Dai dai! Fatti sotto! Fatti sotto! Sono qui! Yes! Pam! Ma cosa fai zia Peach? Zia Peach mi fai ste cavolate così? Pam! Pam! Con il rimbalzo lo va a fregare! Wow! Il top spin! Di Peo! Pesca testa volante! Pam! No! Adesso la fa... Attenzione! Mi stava per fregare! Corta! Gliela mandiamo corta! E poi... Pam! Potente! Oh! Pam! Lo frega! Attenzione! Con un colpo potente caricato a bestia! Ed è così che zia Peach inizia a fare le palle corte! Per fregarlo! Pam! E lo frega! Oh! Attenzione! Zia Peach la numero uno! Io lo sapevo dovevo giocare sempre con Peach! Dopotutto è il mio main! Da oggi! Vai zia Peach! Corta! Pam! Pam! Valla a prendere zio! Adesso vieni qua vicino va! Avvicinati avvicinati bravo scemo! Ah era una palla corta pensate! Niente da fare! Ansaco perde! E zio Peo testa volante porta a casa la vittoria bambini! Spero che siate contenti di questo risultato perché zio Peo testa volante! Guardate che testa volante incredibile! Wow! Facciamo l'ultima poi chiudiamola! Zio Peo testa volante avanza nel torneo! Attenzione! Alla ricerca di un altro giocatore! Contro Ron che usa Rosalinda quindi aspettiamoci tante palle curve! Attenzione! Come le mie che sono più o meno curviline hanno dei problemi! Anche se sono solo una testa volante quindi non posso avere le palle giusto? Bene quindi inizia Rosalinda e lei che ha la palla! Io no perché Peach no! Eeeh guardate! Mi voleva anculare subito! PAM! 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 Mandiamogliela corta! Corta! Bloccato! Tua madre! PAM! Valla a prendere! Valla a prendere! Vieni qua vicino a prenderla! PAM! Wow! La frega così! Questo è forte Ron eh! C'è da stare attenti! Questo sembra bello sveglio! Guarda come cerca di incularmi! PAM! PAM! E invece lo frega lui! PAM! Lo frega! Lo frega! Attenzione! Ron la prende dal cu- PAM! No! PAM! No! No zia Peach! Zia Peach non mi puoi fare questi errori da bambino! Corta! PAM! Wow! Lo frega! Con la palla corta! Incredibile signori! E lo blocca! E lo frega quasi! Corta! 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 PAM! Oh il lag potentissimo! PAM! Lo frega! Lo frega! Sì! Con la palla corta! Attenzione! Porta a casa il punto! Grande principessa pesca! Bello testa volante! E soddisfattissimo! Adesso tocca a noi battere! Capito? Zio Bello! Vai! PUM! 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 La tira alta! PAM! 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 Valla a prendere! Attenzione! Vuole fare la mossa speciale che bloccherò alla grande! Guarda un po' te! E... POP! Bloccata! Inculata! Wow! Cosa è successo zia Rosalinda? Che fai? Piangi? Piangi qua adesso! Piangi da tua mamma! Scema! Scema! Cosa? Quanto è soddisfacente questo gioco! PAM! Lo va a fregare! Con la palla corta! Con la palla corta! E poi lo... Così! Yes! E porta! Quasi il punto a casa! Pensavo che stessi già a 40! Invece no! Ron si crede forte ma non può nulla contro di me! PAM! La tira corta! La tira alta! E... PAM! La tira potente! Adesso tocca a me fare il tiro speciale zio Ron! Mo tocca a me! Pensa un po' te! Cosa vogliamo fare che la tiro di qua? Oh no! Mi sa che è fuori! È fuori! Ma che scemo che sono! Sono un pirlomane! Eh zio Ron! Scusa! Colpa mia! Quando Peach si carica troppo si eccita! E fa i casini! Poi ti f***a! Pensa un po'! Wow! Peote sta avanti! Ma vincerei l'incontro! E questo è tutto per questo video! Per questo video è tutto bambini! Zio Peo testa volante ha preso sculacciate tanti bei sfidanti e prenderà sculacciate pure voi! Se vi unirete a non lo so alle partite che aprirò! E comunque informerò su Instagram tramite le stories o sul gruppo Telegram il canale Telegram che trovate in descrizione! Ma questo è quanto e se avete trovato divertimento e gioia in questo video! Demostrate tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su! Ma soprattutto ricordatevi che avete appena visto Zio Peo testa volante! Conosciuto anche come Electric! Buh! 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 Buh!